ragazzi ci tenevo a fare questo video sull'oro perché tanti parlano di bitcoin queste cose che secondo me non hanno niente di sicuro e di valido sono futili come un click mentre l'unica cosa che vale è l'oro guardate l'oro vale 2.500 dollari l'oncia ha guadagnato un 20 per cento netto nel 2024 neanche in un anno è incredibile ragazzi lasciate perdere quei fuffaguro che vi dicono di comprare bitcoin e cavolate del genere sono veramente dei schemi ponzi l'oro è da 2000 anni che non lo batte nessuno